Sta facendo in tappa in Puglia la Coppa degli Europei Maschili di Volley del 2023, torneo che si giocherà anche a Bari in settembre. Sono infatti in programma al Palaflori, ottavi e quarti di finale. Il trofeo lo vediamo in giornata, è stato esposto a Polignano. Questa sera sarà a Monopoli, tantissimi curiosi appassionati che si sono scattati una fotografia con la Coppa. Domani a Bari sarà presentato ufficialmente anche il programma dell'evento che riporterà in Puglia la nazionale campione d'Europa e del mondo in carica guidata dal Salentino Fefe De Giorgi.